Buonasera amici lontani e vicini siamo davanti allo storico palazzo Vescovile che come potete notare grazie all'insediamento del nuovo arcivescovo di Messina, Santa Lucia del Mela e delle olie è tornato finalmente ad essere illuminato e già è una luce di speranza, eccellenza Luce di speranza sì, speriamo che cominci anche ad essere vissuto naturalmente con compatibilità con tutti gli altri impegni perché la Riocesi non è solo Lipari, è Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela quindi dovrò senz'altro essere presente ovunque ecco questo in tempi diversi perché contemporaneamente non posso essere presente in tutti i posti Ecco a distanza di qualche giorno dal suo insediamento a Lipari vista la specialissima accoglienza che c'è stata qui a Lipari ecco qual è la sua riflessione? La mia riflessione è che c'è una popolazione bellissima e ci sono delle potenzialità enormi che secondo me bisogna valorizzare al massimo da parte mia l'impegno ci sarà non solo per Lipari ma per tutta la diocesi nel suo insieme è così un territorio molto vasto, ci sono abitudini, culture, tradizioni diverse bisogna rispettarle tutte e valorizzarle al meglio perché il vissuto diventi il momento nel quale l'evangelizzazione possa essere sostanzialmente evidenziata e portare i suoi frutti anche per la popolazione Ecco a distanza di qualche giorno è tornato subito si può dire nell'arcipelago per essere vicino alla comunità euliana questo è un segno di grandissima sensibilità Sì, è quello che desideravo e sto cominciando a viverlo il mio desiderio è di continuare a viverlo quindi dando una presenza e facendo sentire alle persone la presenza del Vescovo e di una chiesa che si fa presente e sa stare accanto alla gente Da qualche giorno gira per Lipari, anche per le Borgate domani si trasferirà a Salina per essere vicino anche alla comunità della seconda isola delle Olie con tre comuni tra l'altro Domani avremo la giornata di ritiro per il clero delle isole e poi nel pomeriggio comincio già a vedere qualche altra isola a Salina perché i collegamenti pubblici che me lo consentono per ora sono un po' limitati nelle corse quindi è chiaro che aumentando le corse degli aliscafi cercherò di dare attenzione anche alle isole più lontani da Stromboli, Panarea fino a Ligudi e Filigudi, questo senz'altro e con questa presenza assidua in modo particolare nell'arcipelago immagino che avrà anche degli obiettivi intanto la riapertura di questo Palazzo Vescovile che fra l'altro è anche sede del prossimo o futuristico Museo di Ocesano Sì, le finalità ci stanno quindi sarà rivisitato un pochettino lo stato della situazione perché se non si parte da un punto di partenza che è lo stato della situazione neanche la progettualità può essere particolarmente attenta quindi per ora sto cercando di prendere coscienza di qual è lo stato di fatto dopodiché ci daremo subito da fare insieme ai sacerdoti qui delle isole Olie per valorizzare questo sito e poterlo rendere più fruibile possibile sia per servizi sia come contenitore culturale E qui in tema di progettualità ci sarà da recuperare anche quest'altro palazzo della curia Vescovile proprio qui nel Viale e soprattutto la chiesa all'interno del castello la chiesa di Santa Maria delle Grazie che purtroppo rischia di cadere a pezzi noi come notiziario più volte l'abbiamo sollecitato il recupero anche direttamente all'assessore regionale beni culturali che quest'estate è stato a Lipari, è un vero peccato Senza delle risorse è impossibile fare qualsiasi cosa quindi parto sempre dal presupposto bisogna vedere lo stato di fatto, la destinazione che si vuole dare e sulla destinazione che si vuole fare ritrovare tutte le risorse e operare questi sono i passi secondo me fare promesse eccessive mi sembra che poi uno si autoesalti e non è il caso cominciamo dalle cose più semplici, dalle strette di mano delle persone quindi se c'è un consenso manifestato dalla gente l'accoglienza delle persone, l'incontro con le persone questo diventa preludio di altri incontri e di altri sviluppi questo senz'altro. Ecco in occasione del suo insediamento a Messina tre sono state le parole diciamo chiave del suo discorso la croce, Maria e la barca con una particolare dedica alle olie sì sì sì, è chiaro ma dico le isole di per sé vivono proprio per la loro situazione geografica esperienze di isolamento ma non ci sono luoghi di emarginazione per me per me esistono luoghi di integrazione quindi anche il vissuto nell'isola deve essere una opportunità vera e propria per far crescere il senso della solidarietà della reciprocità, della partecipazione e dell'integrazione. Ecco anche le olie che sono una delle località turistiche ormai lanciatissime a livello internazionale e vivono prevalentemente ormai solo di turismo purtroppo però vivono tra gli abitanti un momento di grande difficoltà per la crisi che attanaglia un po' ormai tutto il mondo ecco ai più bisognosi qual è la parola che si sente di formulare? Innanzitutto direi un grido di speranza questo sì e soprattutto a mio avviso la cosa più importante è valorizzare le risorse perché io sono convinto che le risorse non ne mancano ma non sono le risorse economiche le risorse prime partono senz'altro dal coraggio che si ha di investire io penso che ognuno di noi ha sempre una buona dose di capacità imprenditoriale ma nel senso buono del termine sotto il punto di vista prettamente economico quindi per far profitti ma per far profitti per ciò che riguarda la vita sociale nel suo insieme io penso che queste non mancano quindi una creatività che fonda e affonda le sue radici anche nel sacrificio perché le cose date per scontare sono quelle che non si apprezzano e quindi c'è il rischio non del progresso nel bello e nel bene ma c'è invece la possibilità se non si valorizzano le risorse va a finire che poi la gente aspetta tutta la manna che viene dall'alto e non si muovono un popolo in cammino è un popolo che camminando fatica però gli obiettivi cerca di raggiungerli e allora è necessario che ci sia questa partecipazione da parte di tutti secondo il ruolo che ognuno ha e secondo il proprio specifico e la propria vocazione L'ultima cosa, eccellenza anche gli oliani in primavera saranno chiamati alle urne per il rinnovo degli organi comunali quindi elezione dei nuovi sindaci e dei nuovi consigli comunali su quattro comuni ben tre saranno interessati la sua parola verso i nuovi governanti o verso i politici del momento che scoprono la gioia di mettersi a servizio e non di servirsi della gente bene, abbiamo completato ringraziamo l'arcivescovo il nuovo arcivescovo di Messina delle Olie di Santa Lucia del Mela Giovanni Accolla grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi arrivederci eccellenza, grazie è stato un piacere